Ehi ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci ritroviamo nuovamente qui nella Road to Diamonds Mi presento, sono Beepo, Beepo 3393 e questa è la serie della Road to Diamonds Negli scorsi happy show di ragazzi abbiamo terminato quello che è lo zoo Allora corriamo un attimino Ragazzi oggi sarà un episodio un po' particolare perché leggendo i commenti mi avete chiesto in tantissimi di voler vedere la Road Comunque perché ci sono tanti nuovi iscritti e bla 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 Comunque nello scorso video abbiamo realizzato questo e devo dire che mi piace davvero tanto tantone Vedete abbiamo fatto un piccolo habitat e guardatelo quanto è contento il nostro Bear nel suo nuovo habitat Presto andremo a realizzare, vabbè intanto quella parte perché ancora devo vedere un attimino come farla Comunque andremo a realizzare anche in questo cerchio diciamo un habitat Mi avete consigliato pure di fare in questo cerchio l'habitat dei Lama Che sarà un nuovo mob che inseriranno nella 1.11 Ma il mouse che ci blocca ma tornami Oggi ragazzi sarà un episodio un tanto molto semplice Vi chiedo scusa ora per la mia voce ma mi fa male la gola in un modo incredibile Ah comunque qui ho messo la pursuit hate così l'orso Cioè visto che l'orso l'ho messo là potevo mettere la pleasure Oggi sarà un episodio di non esplorazione come si dice di ricognizione No anche se non è ricognizione quella che faremo Ma semplicemente guarderemo quella che sarà Quella che è non quella che sarà la Road to Diamonds Allora ragazzi come prima cosa Vi ripeto questa è una cosa che sto facendo per tutti i nuovi iscritti Visto che ho letto parecchi commenti di gente che me lo dice Pepo fai un escursus della Road Perché appunto visto che sei arrivato a una roba come 150 episodi Semplicemente facciamo un escursus generale dove guardiamo quello che abbiamo fatto In primis ragazzi io andrei a vedere ovviamente Casa Nostra E Casa Nostra comporta anche questo ponte Visto che questo ponte l'ho realizzato proprio tra i primissimi episodi No vi ricordate questo laghetto è nato Cioè è nato così eh Quando io ho iniziato la Road to Diamonds Questo laghetto già c'era Ok questa parte l'ho creata io Perché tipo il lago mi sembra si chiudeva qua Infatti vedete? Vedete qua che l'ho scavato tutto Comunque il lago mi piaceva ovviamente Lui è Pino Quindi Pino è sempre stato qua E questo isolotto c'era anche Semplicemente io l'ho rimodellato Un attimino per la casa che volevo andare a realizzare Entriamo dentro casa E come vedete casa mia è molto semplice Vedete è alta tipo 4 blocchi Così posso saltare senza pericolo di sbattere la testa Questa è una zona chest che dovrò rifare Io non so se appunto voi nuovi che mi seguite Seguite la Road sapete che cosa ho pensato Ma volevo andare a realizzare qua Una porta che mi portava in basso Una porta che mi portavo Ma tornemi Una porta che mi portavo in basso appunto Devo realizzare un magazzino Diciamo che le idee per la Road sono davvero tante E alla fine ragazzi non ci insegue nessuno Abbiamo tutto il tempo Comunque qui abbiamo una mappa Appunto di tutto Vedete qui la piazza centrale con il pepo pensatore Poi questo tunnel Penso che comunque lo vedremo in un prossimo episodio Perché non credo di riuscire Solo in un video a mostrarvi tutto Comunque questa mappa l'ho fatta sempre in video Vi ripeto la Road è formata da 156 episodi Penso questo sia il 156esimo Quindi potete immaginare quello che ho fatto in 156 episodi Ah una cosa molto importante Ovviamente lo scopo della Road to Diamonds È quello di riempire questa chest Appunto la Road to Diamonds Piena di blocchi di diamante Anzi a proposito Ok piccolo taglio incredibile Andiamo un attimino nella bacchecca delle sfide Allora io lo zoo lo considero finito Comunque l'habitat degli orsi Dov'è? La 17esima sfida Che ci ha consigliato Stefano qualche episodio fa Ecco esattamente nell'episodio 152 Un igloo per orsi Ragazzi l'abbiamo fatta Quindi il nostro premio Sono 15 diamanti Nell'inventario non ho nulla Questo qua è il command block Che ci darà il nostro premio Siccome capite bene sono in vanilla Non sapevo come altro fare Se non con un command block Che ovviamente userò soltanto con le sfide In ogni caso se guardate i video Tranquilli che non baro Anche perché mi rovinerei la serie Io stesso Quanto sono pirla No Non mi pare proprio il caso E con questi 15 diamanti ragazzi Il mouse che ogni tanto si rincoglionisce Io mi andrò a realizzare Un blocco per la nostra Road to Diamonds E questa cosa è bellissima Visto E quando la riempiremo Questa Sì vabbè che sto facendo Quando riempiremo Questa cesta di blocchi di diamanti La cosa figa Sarà appunto Quella di Cambiare il nome alla serie Ho già un paio di idee Però diciamo Non vi spoilerò nulla Anche se ripeto Chi ha visto la serie Più o meno qualche idea ce l'ha In ogni caso Qui abbiamo la cucina Semplicissima Diciamo le fornaci Dove metto a cuocere La roba Va benissimo Diciamo questa stone La metto momentaneamente Nella cesta del cibo Mi sembra Correttissimo E questi diamanti Siccome sono i diamanti Delle sfide Li separo dai diamanti Normalissimi Appunto perché questi Li posso usare per fare blocchi Diciamo i diamanti Che trovo in miniera Nope Comunque andiamo al secondo piano E anche lui Diciamo lo dovrei finire Da tipo il trentesimo episodio Siamo al centocinquantaseiesimo E facciamo che se questo video Raggiunge i Ditemi voi like Il prossimo episodio Diciamo dopo che finirò Quest'escursus Della ROAD Andremo a finire Finalmente sto cazzo di piano Comunque questo qua Il secondo piano Che vi prometto Lo finiremo Giuri in giurella E poi questa qua È la mansarda Che ho adibito Come vedete Appunto alla stanza Delle Delle incantagioni Perché a me Devo dire Mi piace Cioè è molto figo fighello Questi qua sono tutti i libri Che ho fatto Fatemi sapere se questo video Comunque vi piace Ok Ah poi vabbè Bellissimo Qui abbiamo l'ascensore Che non è un'idea mia Vi ricordo che La mappa Della ROAD TO DIAMONS Io la inserisco Ogni 50 episodio Ok Ce la metto in descrizione In download Così che voi potete giocarla Ogni 50 episodi Quindi troverete Il download sotto L'episodio 50 O meglio Per l'esattezza Tipo sotto L'episodio 52 Perché ho pensato In quel periodo là Di mettere la mappa In download Poi sotto L'episodio 100 E sotto L'episodio 150 Quindi sappiate Che il prossimo Download Della ROAD Lo vedrete Al 200esimo episodio In ogni caso Come vedete Ho preso L'ascensore E questa è tutta Una cosa Che ho scavato Io a mano Questa è una vetrata Che dà sul lago Che mi piace davvero Tantissimo E poi sempre qui Sul secondo piano Ho realizzato Il La mob farm Vedete Anche di questo Ovviamente ho realizzato I video Vedete I mob semplicemente Muoiono E mi droppano la roba Diciamo Può tornarmi utile Diciamo Mi serve qualche osso In più Vedete Qui c'è Poi scendendo Dalle scale Non usando L'ascensore Decorato ovviamente Tutto con il legno D'abete Perché io lo adoro Il legno D'abete Qua appunto C'è l'ascensore Quello che Scende di lì Perfettissimo Bravo Bravissimo Poi questa qua È la mia prima miniera Infatti se vedete Qua c'è una scala Che Ti ho chiuso Perché è chiusa Non dovrebbe essere Chiusa questa roba Ah ok Ok Perché sicuramente Questo qua è un chunk Buggato Che ovviamente Si è sfanculato Quando Vabbè Si va I problemi Della road Che chi mi segue Degli albori Li sa Andiamo appunto Sotto la casa Allora qui abbiamo L'entrata del portale Del nether L'ho fatto in basso Per evitare Che se dovessero arrivare Pigment Diciamo Si trovano qua E non mi vengono a rompere Gli zebedei Ho creato questa stanza Diciamo Tutti i materiali del nether E bla 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 Successivamente abbiamo Qui vabbè Si chiude Potevo scendere Anche fino alla bedrock Però Non l'ho fatto Semplicemente Perché Cacca a pupù Guardate qua Questo ascensore È fighissimo Vedete Io mi metto qua Piggio qua Vedete E posso usare l'ascensore Per ritornare sopra E evitarmi le scale E questa qua Vi ripeto Non è un'idea mia Bensì di un ragazzo Che ha scaricato la mappa Mi ha realizzato l'ascensore Mi ha inviato gli screen E bla 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 Devo ancora fare le pareti Lo so che non le ho ancora fatte Ma hey Cioè siamo soltanto Al centocinquantesimo episodio No? Ecco Questa qua Devo dire È una delle cose più fighe Che abbia mai Pensato Perché è una miniera Ok? Serve per trovare i diamanti E come tutti voi sapete I diamanti Si trovano Tra l'altezza 5 E l'altezza 12 No L'altezza mi pare 14 Ma adesso non mi ricordo E come vedete Io ho realizzato Delle gallerie Dove scavando Un semplicissimo tunnel Io ho tutte le pareti Appunto In bella vista Vedete? Quindi semplicemente Scavando questi tunnel I diamanti Davvero Non li potete perdere Non si possono perdere Poi semplicemente Ho abbellito Con stone brick Diciamo Mi piace anche fare Oltre le cose funzionali Anche carine E queste sono tutte idee mie Poi qui va bene Le ceste Dove metto le robe Che mi possono servire Qui delle fornaci Quando devo cucinare Le robe Qui piccone in ferro Appunto per scavare I tunnel Perché diciamo Sono molto 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 Lunghi Comunque questa qui È la mia miniera Diciamo che ho realizzato Anche questa Parecchi episodi fa Questa qua Alla fine ragazzi È casa mia Cioè questa qua È soltanto Casa mia Cioè qua ci sono Non so quanti episodi Di lavoro Io direi di andare Nel nether E vi faccio vedere Cosa ho realizzato Nel nether Poi tutto l'esterno Vi farò Un prossimo video Visto che ci tengo Appunto che mi facciate Sapere Il bordello Incredibile Cosa ne pensate Intanto qua Dovrò realizzare Un'entrata decente Perché così Non mi piace Qua ho realizzato Il tempio satanico Ci sta Cioè ci sta È un'idea Di una ragazza Perché ci sono dei diamanti Non ci sono più Sai che questi sono I diamanti Che tipo ho buttato Qualche episodio fa E sono rimasti in bilico Nella botola Questo tempio satanico L'ho realizzato Semplicemente perché Vi ripeto Una ragazza Mi ha mandato Gli screen Mi piaceva il tempio E inizialmente L'ho realizzato Sulla pozza di lava Nella road No Di fronte casa mia Però siccome Non mi piaceva Cioè Stonava tantissimo Col contesto Ragazzi L'ho smontato E ricostruito Vabbè Vabbè Non vi dico niente Davvero La rottura di palle Di questa cosa Comunque semplicemente Vedete Un tempio satanico Così Semplicemente Per bruciare la roba Semplicemente A livello estetico Non ha una cazzo Di utilità Quando mi avanza roba Che la voglio bruciare Nella lava Vado là Poi abbiamo Ecco Questo è uno dei progetti Più belli Che ho fatto Ovvero La ferrovia Che mi porta Vedete Saliamo qua La ferrovia Che mi porta Alla fortezza Del come cavallo Si chiama Ragazzi Costruita tutta In survival Ragazzi Costruita Tutta In survival Ok Vabbè ovviamente Sempre l'audio Che si sfancula Vedete Di tutte queste cose Ragazzi Ci sono i video Basta Vi andate a vedere I video Vedete che sono Un malato Pazzo Quanta come Sono potuto Usare qua Veramente Proprio Non vi potete Nemmeno immaginare Però devo dire È fighissima Questa cosa Visto Siamo arrivati Scendiamo E qui diciamo Dovrei fare Una scala Che non ho fatto Perché sono Una bella persona Diciamo che Si è larga 2 Perché da qua Ci ho fatto Scendere l'orso Qualche episodio fa Perché ovviamente Ho dovuto passare Tramite nether Questa ferrovia Semplicemente Mi porta in modo Sicuro Semplicemente Alla fortezza Del nether Perché Non so Se devo ammazzare Blades Posso venire qua Tranquillamente Visto che ci sono Gli spawner Comunque Torniamo Questo Alla fine Quello che ho realizzato All'interno della casa Portale del nether Compreso Ho realizzato Comunque Questo video Semplice Perché Tralasciando Va bene L'audio L'audio Che si sfancula Semplicemente Perché Appunto Come vi dicevo Me l'avete chiesto Tantissimi Nei commenti Pepo Ti prego Facci vedere La road Facci vedere La road A me questo tunnel Piace Da morire E' bellissimo Perché nonostante Fatto soltanto Di cobblestone Ha comunque Un suo disegno Una sua regolarità Diciamo I suoi colori Mi piace Mi piace Vetro bianco Sopra Mi piace Poi qua c'è Una cesta piena Di binari Alimentati Che questi binari Li ho fatti tramite Il bug della 1.8 Chissà quanti episodi Fa Guarda che bello Questo mamma mia Bellissimo In questo punto Io raccolgo I secchi di lava Per la farm Di patate Quella Infatti Presso Tipo lo svuoto E vabbè C'è una piccola curiosità Che vi ho voluto dare Sto facendo questo video Anche semplice Perché Non so se sentite La mia gola Ma proprio Non riesco Proprio A stare un'ora e mezza A registrare Quindi ne approfitto Uuu A proposito di questa cosa Ecco Questo fa parte del nether Ve lo devo far vedere Assolutamente Ho realizzato Questa scala Che mi porta Ovviamente Fino alla bedrock Perché in quel periodo Si poteva fare Vi parlo Appunto Quando la mia road Era alla 1.8 Questo bug Ora che appunto La road è nella 1.10 Non funziona più Quindi questa cosa Mi dispiace Tantissimo Però era una cosa Veramente figa E si Allora il bug Consisteva nel Andare sopra la bedrock Con un ender pearl Vedete E poi facendo crescere Appunto questi alberi Sotto sopra In ogni caso Potete recuperare video La playlist della road La trovate nel mio canale Tipo il video Si intitola Oltrepassare la bedrock Una cosa del genere Tramite un bug Appunto L'albero cresceva Sotto sopra E crescendo sotto sopra Diciamo questi tronchi Vedete Questi qua Magari Aspetta spacco Ecco vedete Questi tronchi Prendevano il posto Della bedrock Vedete Qui in questo caso Non è passato Come vedete Questi pezzi di legno Prendevano il posto Della bedrock E quindi Potevano andare a realizzare La scala Per passare E questa cosa L'ho realizzata Semplicemente Per i passaggi Perché vi ricordo Che sul nether Se io faccio Questo salto In questo momento Nell'overworld Ho fatto una roba Come 8, 6, 24 Mi sono spostato Di circa 40 blocchi Semplicemente Mi aiutava Negli spostamenti Tutto qua Poi vedete Guardate Qualche cosa figa Mi butto di qua E muoio brutalmente E invece no Perché ho messo lo slime Questo qua È il nether Che Come l'ho realizzato Molto semplice Niente di incredibile In casa mia È questa Ragazzi Nel prossimo episodio Che a sto punto Non so Se caricarlo Mercoledì prossimo Perché comunque Il prossimo episodio Sarà sempre Un guardare la road Non lo so Non lo so Magari fatemelo sapere Qui sotto nei commenti Perché in ogni caso Vi ricordo Che la road Esce tutti i mercoledì Alle Non so che ora Comunque tutti i mercoledì Esce la road Scusate la tosse Ma va bene E va bene Mettiamo che l'orto Fa anche Anch'esso Parte della casa Questo è un piccolo orto Che realizzai all'inizio Della serie Sempre per il discorso Di cibo E poi Lei è granella O meglio Granella tipo 2.0 3.0 Perché la vera granella Ha un altare lì Che vi farò vedere Comunque in un prossimo episodio E questo qua Vedete l'orto Con un tetto Molto particolare Che mi ha divertito Tanto fare E poi qui La bacheca delle sfide Appunto le sfide Che mi dite voi Vedete Matteo ha dato L'inizio appunto A questo muro Vedete Matteo crea il muro Dei Achievements O Achievements Poi Raisin Zobby Piazza un blocco di smeraldo Sotto la cesta Ovvero qua Poi Giuseppe M Usare le foglie Come tettoia Per il ponte Che com'è Quindi vedete E l'idea delle sfide È arrivata Più o meno Ecco vedete De Lucian Ha dato L'idea appunto Che le sfide Danno i diamanti Come premio Potevo benissimo Mettere l'episodio Perché non mi ricordo Quale sia Però vedete Dall'episodio 47 Vedete le sfide Sopravvivi una notte nudo Episodio 47 Farma automatica Di 30 canne Tutte queste robe qua Detto ciò ragazzi Fatemi sapere Se magari Questa cosa Già la sapevate Comunque se mi seguite Da ancora prima Cioè come dire Fatemelo sapere Qui sotto nei commenti Se magari la Rod La mia voce che se ne va In un modo incredibile Se appunto la conoscevate già Cioè quello che vi ho fatto vedere Già lo conoscevate Oppure se siete nuovi iscritti A quello che vi ho fatto vedere Magari sono cose nuove Che voi non avete mai visto Detto ciò ragazzi Io spero tantissimo Il video di oggi vi sia piaciuto Magari per chi segue la Rod Vi chiedo scusa Se magari oggi è stato Un episodio un po' così Però capitemi Andatevi pure voi A leggere i commenti Quanti mi hanno scritto E Peppa ti prego Fai vedere le cose Che hai realizzato nella Rod Perché Riguardarmi 150 episodi È un po' complesso Invece se fai un excursus Lo preferisco Quindi Non lo so Penso sia stata una cosa Carina da fare Insieme a voi Poi vabbè Quello è il Peppo de Janeiro Ma Speciale 100 episodi Diciamo A quello gli dedicheremo Più 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 Nel prossimo episodio Della Rod Devo dire che Le cose fighe Non sono finite Molte cose fighe Le ho fatte anche all'esterno Vi faccio vedere pure La farm Guardate la farm Quanto è figa Almeno a me piace Vi ripeto esteticamente È semplicemente una farm Di mob Vedete L'ho fatta non volante Come potete vedere Le colonne Diciamo a me piace È carina E siccome deve essere Per forza alta Perché i mob Devono morire Per danno da caduta Devo dire la cosa Mi piace tanto Perché non è quel blocco Di cobblestone Che di solito Fanno tutti Ho voluto realizzare Un qualcosa di carino E simpatico Che a me piace Detto ciò ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Fatevi sapere la vostra Qui sotto nei commenti E nulla Noi ci vedremo Mercoledì prossimo Oppure non lo so Vediamo Leggerò i commenti Aspetto la vostra A un prossimo video Vi voglio bene E ciao ciao Mi fa male la cola Tantissimo Mata